Collega il quartiere di San Lazzaro alla zona dell'ex zuccherificio di Fano, via del fiume, un tratto stradale definito dimenticato e pericoloso dai residenti che qui ci abitano e dai frequentatori, chi in auto e chi in bicicletta. Avvallamenti, buche e autoveicoli a forte velocità rendono questo pezzo insicuro soprattutto per chi si sposta sulle due ruote o addirittura a piedi. In effetti i residenti siamo pochi in questa zona, ma chi passa in questa strada c'è tantissima gente anche a piedi che la mattina corre ed è una strada veramente pericolosa. Da quando io sono qui da vent'anni nessuno ha mai asfaltato, siamo un po' dimenticati. Le macchine passano veloci, le macchine passano molto veloci e poi ecco, se una a piedi deve veramente, ci vorrebbe un pezzettino per i pedoni, non dico una ciclabile che è troppo, però veramente camminare a piedi qui è difficilissimo. Quindi speriamo davvero che il comune intervenga quanto prima. Questa strada è particolarmente pericolosa per le biciclette, io ho un nipote di 15 anni che si sposta in bicicletta e abbiamo sempre il cuore in mano. Le buche sono una cosa che vengono continuamente a tappare con dei pezzettini di asfalto che puntualmente dopo 15-20 giorni si staccano. Se si può fare qualcosa prima che succeda l'irreparabile sarebbe una cosa più che giusta. Ad intervenire sullo stato di Via del Fiume è stato anche il segretario dell'Udc Stefano Pollegioni che ha ricordato che l'unico intervento fatto dopo le numerose segnalazioni è stato quello di aver installato i pali dell'illuminazione. Questa strada è una strada pericolosissima e questo lo sappiamo tutti, non è una novità. È una strada stretta, piena di insidie, da anni non asfaltata, non è stata neanche da quello che mi risulta inserita nel piano delle asfaltature. Per cui è una strada che ha bisogno assolutamente di essere messa in sicurezza. I cittadini giustamente che frequentano questa strada mi hanno chiesto di intervenire. Oltretutto è la strada per i residenti principale perché non hanno alternative per raggiungere la città. Ma in vista anche dell'apertura della nuova piscina che è stata collocata lontano dalla città ed è tutto molto discutibile, questo è il percorso per raggiungerla. In questa zona ci sono anche delle attività. C'è un B&B che mi riferivano proprio poco fa, che i turisti che vengono lì chiedono ma questa che strada è? Così marridotta, così abbandonata. Quindi non è neanche una bella cartolina per la città di Fano. Che cosa chiedete dunque per questo tratto di strada? Mi farò carico di interpellare il comune tramite una lettera dove chiederò a loro cosa intendono fare. Chiederò a loro se intendono fare un programma di asfaltature. Lo spazio non è grande ma è possibile creare un piccolo percorso ciclopedonale per mettere in sicurezza quelle persone che lo usano in bicicletta e a piedi. Spero che ci sia una risposta positiva. Vogliamo capire come mai che questa strada è eternamente dimenticata, che nessuno la considera perché è così. vorremmo capire come è messa la situazione di questa strada.